volete vestirvi alla moda ma allo stesso tempo distinguermi dalla massa visitate il sito di fuori gioco e seguite la pagina instagram link in descrizione da como sotto la pioggia sotto il diluvio chi vuole scendere dalla macchina nessuno bisognerà scendere prima o poi e bisognerà anche portare a casa i tre punti e dai numero 29 con il numero 19 va a oggi e oggi si gioca e bisogna vincere dai dai dai, tira, andiamo, andiamo, ottimo angolo, il primo partito bene e abbiamo segnato Sampacosta! 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 Bravo Carl, dai! Chiudiamo in vantaggio al primo tempo ma non è facile Un po' di sofferenza alla fine C'hanno un bel palleggio, giocano veloce, non bisogna perdere l'uomo mai perché possono imbucare se no, dai! Allee, allee, allee! Gli hanno più di människori, allee! Alla, dai! che sconfitta questa va proprio male fa male perché veramente ha dominato parliamoci chiaro abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 ma avrebbe meritato di essere in vantaggio il Como già al primo tempo perché ha fatto due belle paratone carne secche e poi 10 minuti di inizio secondo tempo abbiamo preso tre pere a casa tutti a casa a dormire partiamo dalla metà campo pallaggi in city, sbaglia il rilancio passano 10 secondi i gol ma di cosa stiamo parlando ma neanche all'oratorio si vedono certe cose resettare, ripartire complimenti al Como, bisogna farli senza tante balle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti